Come stai D'Ambo in vista della partita di domani? Sto bene, sto bene, sto tornando bene, siamo allenati bene queste settimane e siamo pronti a giocare la partita. Che partita ti aspetti domani? Sarà una partita difficile come le altre partite, ma dobbiamo solo essere forti e andare avanti, cercare la squadra per poter prendere i tre punti. Come giudichi la tua stagione finora? La mia stagione dall'inizio era bene e dopo mi sono fermato, quindi non sono tanto satisfatto, ma dovevo ancora fare bella figura perché rimasti ancora quattro partite per la stagione e dopo il play-off. Obiettivo Serie B con i play-off? Certo, certo, quello è l'obiettivo della squadra e anche a noi.